Sindaco, è ormai passato un anno dalla sua elezione, qual è ad oggi la situazione e quali sono anche i progetti? Di solito una nuova amministrazione quando si insedia il primo anno prevede tutta una serie di situazioni e prepara tutta una serie di situazioni. In genere eredita anche una serie di cose, di lavori, di opere già magari iniziate, intraprese, che poi porta a conclusione. Questo, parlando adesso di Coglio al Metauro, non è avvenuto, ma non è avvenuto perché chi c'era prima non ha lavorato bene, ma semplicemente perché chi c'era prima, le tre ex amministrazioni, hanno lavorato per unire i comuni, poi è arrivato il commissario e ovviamente non sono state lasciate opere in itinere, tagli di nastro pronti per capirci. Conseguentemente noi ci siamo insediati in un nuovo comune e appunto in questo primo anno abbiamo lavorato per programmare, per progettare, per finanziare delle opere e adesso a distanza di un anno i risultati si cominciano a vedere e si vedranno sempre di più in prospettiva. Ad esempio adesso inizio agosto inaugureremo a Tavernella la nuova sede dei Vigili Urbani, che è una cosa importante perché dà più funzionalità a quel servizio, ma soprattutto lascia spazio a Calcinelli, dove attualmente sono gli uffici, per una serie di spostamenti all'interno della delegazione del comune di Coglio al Metauro a Calcinelli, per sistemare meglio degli uffici interni, ma soprattutto per creare la mensa per i bambini delle scuole elementari e della scuola Dezzi, che sono lì ospitati e fino all'anno scorso non avevano la mensa interna. Da quest'anno invece da settembre l'avranno. Un'altra cosa molto importante che riguarda sempre le scuole sono invece i lavori che si stanno svolgendo sempre a Calcinelli, la scuola elementare Lugli questa volta, per un ampliamento, quindi per delle nuove classi e dei nuovi laboratori. I lavori sono iniziati a maggio e si stanno concludendo, saranno conclusi prima dell'inizio della scuola. Un'altra opera che è già iniziata, è iniziata la settimana scorsa, è la pista polivalente a Montemaggiore, che prenderà il posto di quella che era la palestra comunale che crollò nel 2012 con il Nevone. In questo caso l'area è già in atto, sono già in atto i lavori, sarà bonificata e lì sarà costruita una pista polivalente per i ragazzi e le ragazze della zona di Montemaggiore. All'uscita della superstrada di Calcinelli c'è un incrocio molto pericoloso che si innesta su via di Ponte Metauro. Lì noi prevediamo una rotatoria, stiamo per approvare il progetto definitivo per poi andare alla gara d'appalto, però preliminarmente occorre bonificare un'area, oggi ancora privata, dove c'era un ex distruttore di benzina. Quindi noi dalla prossima settimana inizieremo la bonifica di quell'area, che successivamente varrà presa in carico dall'amministrazione comunale per poi andare alla gara d'appalto. Da qui ai prossimi mesi sarà realizzata anche questa rotatoria, però nel frattempo il 20 di agosto esattamente, appena dopo le ferie, partiranno i lavori della palestra di Villanova. Sempre il 20 di agosto saranno consegnati i lavori alla detta che dovrà fare dell'asfaltatura in via Roncaglia, in modo particolare zona di Villanova, che è una strada importante e assai dissestata. L'ultima settimana di agosto, sempre in quei dieci giorni, inizieranno anche i lavori del nuovo Punti Luce a Sarungarina e tuttavia Roma saranno completamente sostituiti tutti i lampioni, sarà messo a nuovo un po' tutta l'illuminazione pubblica. Tutta una serie di lavori che noi, ripeto, in questo anno abbiamo pianificato, progettato, finanziato e che oggi già portiamo a compimento dopo solo un anno. Grazie a tutti.